Specifico intervento a massa della Guardia di Finanza su tutto il territorio abruzzese per contrastare l'economia sommersa e il lavoro nero. L'operazione, chiamata in codice Illegal Work, è stata disposta dal Comando regionale Abruzzo ed è seguita dai comandi provinciali di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara insieme agli uomini del reparto operativo Aeronavale. Impiegati 200 militari che hanno effettuato 92 interventi nei confronti di altrettanti operatori economici e sono state eseguite oltre 348 interviste nei confronti di lavoratori operanti in settori individuati a seguito di una precedente azione investigativa. In Abruzzo, come nel resto del Paese, il lavoro nero è un fenomeno che difficilmente si presenta isolato in quanto nella maggior parte dei casi è connesso ad altre manifestazioni di illegalità che vanno dall'evasione fiscale contributiva allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina alle frodi in danno del sistema previdenziale. Anche nell'ultima operazione delle fiamme gialle sono stati individuati oltre 100 lavoratori impiegati in maniera irregolare di cui 72 in nero e sono state scoperte numerose violazioni di carattere fiscale e due operatori completamente sconosciuti al fisco.